Oggi siamo ai quartieri, siamo contenti di questo progetto che stiamo supportando Vidi Napoli e Poi Torni. Abbiamo visto una grande influenza di turisti e siamo contenti di aiutarli e indicarli verso zone di loro piacimento. Sono appena arrivato, ho fatto piazza del Belbicito poi ho detto andiamo a vedere Maradona e sono qua. Io non sono per il calcio però qua diventa tutto un lucchichio agli occhi. Siamo da Glasgow, quindi amiamo i Napoli. I turisti principalmente vogliono salire sul Largo Maradona per vedere il famoso murales e tutto il santuario di magliette, di fotografie e di murales che si è creato attorno. Noi siamo arrivati da pochi giorni, l'abbiamo visitata il giusto e è una città molto molto bella, molto accogliente e molto turistica. Napoli è meravigliosa, è bellissima. Io ci sono nata ma sono andata via più di quarant'anni fa. Quando ci torno, torno e rimango sempre meravigliata per i posti meravigliosi che ha. Cosa pensare di Napoli? Napoli deve essere il nostro cuore per sempre. Da che avevamo 18 anni che bazzichiamo per Napoli, pure prima, forse un pochettino prima, dall'università diciamo. Abbiamo preso una settimana per venire a vedere la vostra bellissima città che non conoscevamo. Noi veniamo da Venezia e diciamo che comunque è una sorpresa ogni giorno. E' una bellissima festa. Maradona, gli Amuscutetti e vinceremo. Anche i napoletani sono felici di questo progetto di VediNapoli e poi torni perché ci riconoscono come punto di riferimento. Nei quartieri diamo stesse indicazioni anche a loro per quanto riguarda informazioni e supporto. Pensiamo come con poco si può cambiare un quartiere che nel mondo questo quartiere è stato sempre un po' così conosciuto come un quartiere di difficoltà. Oggi invece Napoli dimostra che si può cambiare in meglio perché poi noi napoletani siamo abituati a vivere nelle difficoltà.